Siamo veramente molto onorati di poter partecipare a questo Open Day di Confindustria per dare la possibilità ai cittadini e alle imprese di conoscere l'opera che Maria Cecilia Hospital porta avanti su scala nazionale da tanti anni. Ormai è più di 40 anni che questa realtà è diventata un punto di riferimento. Quali sono i progetti futuri? I progetti futuri sono di consolidare ulteriormente il ruolo di attore di eccellenza nazionale che riveste Maria Cecilia Hospital ormai da più di 40 anni attraverso la continua introduzione di innovazione e lo sviluppo di un concetto di salute e di benessere nei confronti della popolazione. È un festival che ha avuto un'ottima riuscita nella sua prima edizione, siamo alla seconda e anche qui vediamo che le aziende sono felici, sono felici di partecipare, sono felici di aprire le porte, sono felici perché le eccellenze locali bisogna metterle in vetrina. Ne abbiamo diverse e fa piacere che la partecipazione e la visione di queste eccellenze possano portare la conoscenza del fare impresa e della cultura di impresa che il nostro territorio romagnolo ha.